Buongiorno, bentrovati ad una nuova diretta di mattina live. Iniziamo la nostra mattinata insieme presentandovi il nostro primo ospite. Beh, è impossibile non associare il suo nome all'ecologia e anche al vivere green e il motivo è semplice. Lei da anni si batte in prima linea per sensibilizzare l'opinione pubblica sulla necessità di adottare dei comportamenti virtuosi a tutela dell'ambiente. Tra l'altro il suo volto entra nelle case di tutti gli italiani oramai da anni con il programma Cotto e Mangiato. Il buongiorno di avere qui con noi Tessa Gelisio. Tessa, buongiorno, bentrovata a mattina live. Come stai? Ciao, buongiorno a tutti. Benissimo. In collegamento dalla mia cucina che come sapete è la cucina dove realizzo le ricette di Cotto e Mangiato. Quindi mi sto preparando insomma per la puntata della ricetta di oggi. Esatto, diciamo al nostro pubblico Tessa che è partita la tua nuova edizione di Cotto e Mangiato. Il menù da non perdere ricco di sorprese, ricco di novità, nuovi chef, nuove ricette ma anche nuovi territori e tanto altro da scoprire. Esatto, sì, doppio appuntamento in questo periodo con Cotto e Mangiato, intorno a mezzogiorno, sempre su Italia 1 con Cotto e Mangiato il menù. E poi all'interno è super aperto con Cotto e Mangiato qui da casa mia. Con Cotto e Mangiato il menù sono tante le novità. Come dicevi siamo stati in Trentino Alto Adice per scoprire i percorsi e i territori. Poi continua la gara tra i nostri giovani chef. Anzi, oggi iniziano le semifinali. Noi, come sai, ci teniamo molto alla formazione dei giovani, quindi anche in questa edizione abbiamo istituito la borsa del studio e i Cotto e Mangiato il menù proprio per valorizzare i talenti e gli chef del futuro. Ma poi, vabbè, non solo pizza, tante cose. Valorizzare i giovani chef, ecco, i young chef, li definirei, Tessa, con te, è una mission che ti si è posta all'interno del tuo format. Secondo te qual è il segreto per realizzare il sogno degli stessi? Ecco, qual è il segreto che ogni giovane chef dovrebbe avere per potersi realizzare e spicchiare nel mondo della nostra gastronomia? Un po' il segreto che bisogna avere per intraprendere qualsiasi percorso professionale. Passione, tenacia e formazione. Le tre cose non possono essere scollegate. Bisogna lavorare, studiare, metterci tanta passione, perché comunque è un lavoro impegnativo, faticoso, un po' come tutti, voglio dire. Ormai si lavora tantissime ore al giorno, quindi se non c'è passione, ahimè, è molto difficile. E poi però bisogna anche essere consapevoli delle proprie competenze, delle proprie attitudini. È chiaro che una persona è più prerisposta a fare una cosa che un'altra, quindi anche essere consapevoli di questo aiuta. Tessa, siamo nella tua cucina, grazie del suggerimento, perché comunque sei ormai un riferimento effettivamente per il comparto enogastronomico e per tutti gli chef emergenti. Siamo nella tua cucina e naturalmente ci appropriamo anche a quelle che sono le festività natalizie, Natale, quindi siamo pronti per preparare i manicaretti, tante delizie, tante bontà. Ma poiché siamo in casa qui, nel nostro pubblico di mattina live, c'è la voglia di preparare, di cucinare. C'è qualche ricetta che potresti consigliare a quest'ora del mattino? Ma guarda, sono tantissime. Basta seguirmi tutti i giorni all'interno del studio aperto, vi do una ricetta al giorno. Cosa volete ancora? Poi sul nostro sito ce ne sono più di 2200. Sì, Tessa, è vero Tessa, però daccene una adesso, live, proprio per il nostro pubblico. Ma io guarda, adoro tantissimo, o il risotto o le lasagne, per me sono uno dei due piatti, deve essere presente durante il Natale. Quindi, non so, potremmo fare un bel risotto con il limone, lo zenzero e il rosmarino, che tra l'altro aiutano anche le vie respiratorie in questo momento. Piuttosto che, non so, una lasagna, broccoli e vongole, per fare qualcosa di diverso. Beh, è diversa, ecco, un modo diverso per interpretare la lasagna. Grazie del suggerimento, Tessa. Intanto, ecco, noi ti seguiamo tantissimo, no? Perché il tuo volto, effettivamente, è da sempre legato al concetto del green, dell'ambiente, della sostenibilità. Ma sei comunque appassionata di cucina? Posso chiederti quando nasci? Le due cose si uniscono, perché una delle chiavi per essere più sostenibili è ridurre il proprio impatto ambientale, proprio cucinare. Cucinare prodotti di stagione, prodotti possibilmente biologici, chilometro Italia, ridurre la quantità di proteine, insomma, la vecchia dieta mediterranea di cui siamo la patria, ma è sempre meno persone seguono. Quindi, torniamo alle nostre origini, perché ci fa bene alla salute e anche all'ambiente. Io ho tante passioni nella vita, fondamentalmente mi piacciono le cose belle e mangiare è una di queste cose, è uno dei grandi piaceri della vita e quindi il passo successivo è cucinare per mangiare bene. Ma quando nasce questa passione per i fornelli c'è un ricordo, c'è un periodo a cui è legato a questo momento? Da piccolina, da piccolina con mia nonna, come la maggior parte delle persone, da cui andavo la domenica per imparare a cucinare perché mia madre non era un granché. Ora è migliorata molto, però non era un granché in cucina. Quando andavo la domenica da mia nonna in passivo e avevo paura che le ricette di mia nonna andassero perse e quindi sono andata a imparare da mia nonna. Viva le nonne, viva le nonne. Sempre. Tra l'altro ecco, Cotto e Mangiato, un format che possiamo dire è un must della tv italiana, tantissime puntate, l'hai ricordato prima, le ricette a Iosa, quelle che possiamo seguire, quelle che possiamo realizzare e preparare. Ma i tuoi esordi li ricordi, ecco, tornando indietro nel tempo, quando proprio ti avvicini a questo format? Che ricordo hai? Ma dunque, era un'eredità comunque abbastanza importante perché era un programma molto identificato con la parodi che lo faceva, che ha fatto le prime edizioni. Quindi, insomma, era un'eredità importante. Io non è che mi sia posta tanti problemi, devo dire, un po' di incoscienza e via. Mi piace mangiare, volevo portare avanti un certo tipo di cucina e è nata così. Anche se in realtà poi io con Pianeta Mare, il programma che conducevo prima, già facevo ricette. Anzi, forse è il primo programma che a me gli si è t'ha portato le ricette. Perché in ogni puntata, alla scoperta delle coste e dei prodotti ittici italiani, andavamo poi in cucina a cucinarli. Quindi ecco, tra l'altro con Pianeta Mare ho ampliato la mia formazione culinaria perché mia nonna, bravissima, strepitosa in cucina, ma tutto terra, pesce pochissimo. Invece con Pianeta Mare ho approfondito anche la cucina di pesce e, come dire, mi ha allargato... Ti sei completata, possiamo dire che ti sei... Completata è un parolone perché non si finisce mai. Ho allargato, diciamo, le mie basi culinarie. Però diciamo anche al pubblico, Tessa, che tu sei molto di più della cucina. Justamente, io dicevo nel presentarti che da anni sei in prima linea per sensibilizzare il pubblico, ecco, tutta l'opinione pubblica, sulla necessità di adottare dei comportamenti virtuosi in cucina, ma soprattutto a tutela dell'ambiente. Non a caso, il tuo blog Ecocentrica nasce con l'obiettivo di simplificare la vita a chi vuole ridurre questo impatto ambientale. Questa è una filosofia che in realtà sta diventando sempre di grande attualità. Esatto. Per fortuna sempre più persone sono sensibili alle tematiche ambientali, sempre più persone sono consapevoli di come ognuno di noi, con i suoi comportamenti quotidiani, con i suoi acquisti, con i suoi consumi, incide sul totale. Perché il problema ambientale che cos'è? La somma di 8 miliardi di comportamenti. Quindi dobbiamo tutti modificare il nostro stile di vita per ridurre l'impatto ambientale. Ed è facile farlo. Il problema principale è sapere, la conoscenza. Quindi quali sono le cose che riducono l'impatto ambientale, quali sono gli oggetti, i prodotti. Ecco, io col mio blog Ecocentrica e con i social cerco di semplificare la vita. Siccome per me è una grandissima passione lo studio da una vita, io per prima continuo a migliorarmi ogni giorno. E quindi condivido quello che scopro mano a mano per semplificare la vita. Chi come me vuole ridurre l'impatto ambientale, ma magari non sa come fare, non ha tempo di studiare quanto lo faccio io. Esatto, esatto. Ristituendo i consigli pratici in maniera diretta e empatica. La tutela dell'ambiente, lo dicevi prima, passa attraverso la cucina, il modo di poter adottare comportamenti virtuosi in cucina. Ma secondo te l'Italia oggi è un paese più green? Oppure da cosa deve passare secondo te la tutela oggi dell'ambiente? Quali sono i passi da farsi ancora? Sicuramente stiamo migliorando tantissimo dal punto di vista della sensibilità. Manca ancora lo step tra la sensibilità, perché prima c'è la sensibilità, poi la conoscenza e poi l'azione. Noi siamo alla prima fase. C'è ancora molto da, non insegnare in termini non corretti, c'è molta conoscenza da diffondere per poi portare a delle azioni diverse. In Italia cosa ci sarebbe da fare al volo? Dal volo fare una transizione energetica verso le rinnovabili, che ahimè sono bloccate dall'acci lacciuoli, burocrazia, prevalentemente burocrazia, perché l'energia da fonti rinnovabili è anche più economica ora, oltre che permetterci di essere davvero indipendenti e sganciarci quanto prima dalle fonti fossili e dalle nazioni che a me detengono le fonti fossili, che molto spesso è una sorta di maledizione delle materie prime. I paesi dove ci sono le dittature, o comunque i regimi non proprio democratici, sono quelli che hanno la maggior parte delle materie prime, guarda caso, le casualità della vita. Ecco, le rinnovabili ci permetterebbero di ridurre notevolmente le nostre emissioni climalteranti, di essere indipendenti dal punto di vista energetico e strategico e di avere energia a miglior costo, a molto più basso costo. Quindi quella sarebbe una cosa da accelerare pesantemente, purtroppo il problema principale sono i lacci burocratici. Questo, Tessa, sicuramente notiva che tocca da vicino anche molto i giovani, con i quali tu hai un diretto contatto sui social perché sei seguitissima. Tocca appunto i giovani e questi li troviamo soprattutto sui social. Questa piattaforma sarebbe lo strumento ideale per sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica e maggiormente i giovani, sebbene molte volte le battaglie provengono dalla classe giovanile, ma in maniera incoerente però gli stessi molte volte vanno ad esaltare, a sostenere le fast fashion, per esempio. Eh sì, ci sono sempre contraddizioni. I giovani sono sicuramente più sensibili, anche lì bisogna fare il passaggio sensibilità, conoscenza e cambiamento poi dello stile di vita. La fast fashion è una delle piaghe ambientali, ovviamente non è l'unica. I giovani, ahimè, sono cresciuti con un modello di moda totalmente sbagliato e impattante e ho paura che non ne conoscano nemmeno un altro, sia la normalità per loro. Purtroppo quando si è in quella fase di crescita si è anche troppo soggetti al giudizio altrui, quindi se non ci si omologa ci si sente un po' strani. Io sono cresciuta con un nome che mi rendeva diversa dagli altri e posso dire a tutti i genitori che uno dei valori che devono passare, trasmettere alle nuove generazioni è la ricchezza della diversità. Ognuno ha il proprio carattere, la propria unicità che deve esprimersi anche nell'abbigliamento. Quindi non è obbligatorio omologarsi a queste tendenze dannosissime anche per la nostra salute, tra l'altro, perché come ha denunciato Greenpeace in una recente indagine hanno trovato una quantità di sostanze tossiche negli abiti. Nocive, esatto. Esatto. Che hanno procurato un ingente numero anche di morti, quindi è seria la situazione. È molto seria la questione. Quindi se i ragazzi non prendono come un limite l'essere diversi, ma un valore magari rinuncia alla fast fashion. Esatto. Questo è un altro messaggio molto importante ed è in linea appunto con il tema della difesa dell'ambiente. Mi piace anche raccontare al nostro pubblico che sei una persona straordinaria e si dedica anche alla sua Onlus for Planet che da tempo ha sviluppato anche nel corso del tempo di diversi progetti che hanno avuto tra l'altro un esito di grande successo per contrastare il continuo detitoreamento agli ecosistemi naturali. Qual è stato adesso Versa questa Onlus, ma soprattutto quali le iniziative che si propone di mettere in campo di qui sul breve periodo? Noi siamo una piccolissima associazione tutta fatta di volontari. Questo per non avere costi fissi e dare praticamente tutto quello che raccogliamo ai progetti di conservazione. Noi attualmente stiamo portando avanti dei due progetti in Sud America, uno in Brasile e uno in Argentina, dove stiamo acquistando pezzi di foresta per fare da una parte un corridoio ecologico tra due riserve e da un'altra non acquistiamo ma sosteniamo le popolazioni locali che difendono il loro territorio. Quindi sono tutti i progetti collegati alle foreste tropicali che sono uno dei temi cruciali per il futuro del nostro pianeta e della nostra specie perché le foreste tropicali primarie sono fondamentali per l'equilibrio climatico mondiale e continuiamo dagli anni 60 a deforestare costantemente quindi è prioritario, per fortuna se ne parla anche a livello politico però la politica arriva sempre 20-30 anni dopo e speriamo facciano presto perché poi non c'è più tempo perché secondo molti studi siamo vicini al punto di collasso dell'ecosistema per esempio emazzonico cioè non c'è bisogno di deforestare tutta l'Amazzonia affinché si abbia un cataclisma basta un 10 secondo alcuni ricercatori secondo altri 15% per far collassare l'intero ecosistema e creare danni ecologici a tutto il pianeta con la pandemia abbiamo capito che tutto come se ci volesse una pandemia per spiegarlo però comunque ci ha aiutato la pandemia a far capire che tutto è collegato su questo pianeta non possiamo permetterci di perdere i polmoni del pianeta esatto in conclusione te stai restando in tema ambientale tu sforgi dei look straordinari strepitosi e incredibili e sappiamo che sei un'attenta osservatrice al contempo sostenitrice del green fashion hai dei consigli per chi ci segue in questo momento per essere comunque al passo della moda sostenibile? sì beh sono sempre più numerose le aziende anche se è un settore dove c'è molto green washing quindi fare attenzione al green washing per quanto riguarda l'abbigliamento sicuramente predilige tutti i tessuti naturali perché comunque le fibre sintetiche con ogni lavatrice si rilasciano nell'ambiente e creano microplastiche è un altro tema che affronteremo nei prossimi decenni mica da ridere, è un problemone quindi fibre naturali made in Italy naturali possibilmente ci sono addirittura delle aziende ora che tracciano tutte le fasi della lavorazione cioè in questo stabilimento è stato fatto il design in quest'altro è stata cucita questa parte quindi ti indicano esattamente tutto quanto perché ricordiamoci che non esiste sostenibilità ambientale senza sostenibilità sociale un'altra piaga del fashion è proprio lo sfruttamento della mano d'opera è vero magari ecco sarà un modo per proiettarci un 2023 sicuramente foriero di iniziative di tali iniziative da mettere davvero in campo in pratica Tessa è stato piacere conoscerti questa mattina ma diamo i tuoi appuntamenti al nostro pubblico ricordiamoli tra pochissimo intorno a mezzogiorno vi aspetto con cotto e mangiato il menù e poi intorno alle 12.50 all'interno del studio aperto con cotto e mangiato quindi doppio appuntamento con la cucina la bontà la sostenibilità e l'allegria con Tessa Agelisi oggi qui per noi a Mattina Live grazie tanti auguri è stato un piacere un bacio a te prestissimo pubblicitare state con Mattina Live grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti